Beni mobili ed immobili e disponibilità finanziarie per un milione e mezzo di euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Taranto nei confronti di 24 persone, tra cui tre dirigenti del Comune di Taranto, un dirigente, un architetto ed un geometra della soprintendenza ai beni archeologici della Puglia, 11 professionisti tra ingegneri, architetti e consulenti tecnici, sette tra amministratori e dipendenti di quattro società appaltatrici. Sono responsabili a vario titolo dei reati di truffa aggravata in danno di ente pubblico, corruzione, omissione di lavori in edifici che minacciano rovina e falsità ideologica in materiale commesse dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Il decreto emesso dal GIP del Tribunale Ionico Giuseppe Tommassino rappresenta l'epilogo di indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica avviate dalle Fiamme Gialle nel novembre 2012, che hanno riguardato i lavori di ristrutturazione e consolidamento edilizio di alcuni stabili della città vecchia di Taranto, finanziati dalla Regione Puglia, con un appalto denominato Vicolo 2 Lotto 3 per un importo complessivo di 5 milioni di euro. Le indagini hanno accertato che un gruppo imprenditoriale specializzato nelle riqualificazioni urbanistiche, attraverso l'attestazione di esecuzione e lavori in realtà mai effettuati, ha conseguito un profitto illecito quantificato in 725 mila euro, grazie al concorso nel reato di dirigenti del Comune di Taranto che, attratti da un piano sistematico di tangenti, regalie e cene, hanno omesso ogni forma di controllo, collaudando opere mai realizzate. Mancavano addirittura le strutture di sostegno delle fondazioni degli stabili oggetto di lavori. Il gruppo appaltatore avrebbe dovuto supportare la statica degli edifici con pali radice posizionati a 16 metri nel sottosuolo. In realtà, tale imponente struttura non è mai stata realizzata, così come altre opere di rilievo. Già nel luglio 2014 fu eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza di alcuni stabili della città vecchia, nonché il sequestro di beni per 725 mila euro. Nel prosieguo delle indagini sono stati vagliati ulteriori appalti riguardanti altri edifici della città vecchia, il restauro e la riqualificazione di Palazzo Pantaleo, gli scavi stratigrafi in terreno di interesse archeologico in località Croce finalizzati alla creazione di parcheggi, la rimozione dei giochi d'acqua realizzati nel 2010 nello specchio di mare che costeggia la ringhiera di Corso Vittorio Emanuele. Anche per gli altri edifici della città vecchia sono stati accertati indebiti profitti conseguiti con le stesse modalità illecite. Per Palazzo Pantaleo è stata accertata di fatto l'omessa realizzazione di alcune importanti opere nonché l'esecuzione di interventi di fattura mediocre, ovvero scadente rispetto a quanto appaltato. Per quanto riguarda gli scavi in località Croce e la rimozione dei giochi d'acqua sono state accertate irregolari procedure di affidamento in subappalto dei lavori con un conseguente illecito incremento dei prezzi rispetto agli importi indicati nei contratti originali. Il tutto per il conseguimento di profitti illeciti pari a complessivi 1.478.000 euro.